Nel 1976 la storia della Formula 1 si arricchisce con un modello prezioso, la Tyrrell P34, la famosa 6 ruote, una monoposto progettata da Derek Garner che ha un'intuizione per cercare di competere con i motori 12 cilindri Ferrari, più veloci e più potenti, di circa 40-45 cavalli, era quella di ridurre la resistenza all'avanzamento della monoposto, quindi disporre su tre assi delle ruote ciascuno le ruote della monoposto, quelle anteriori da 10 pollici al posto delle 13 tradizionali avrebbero garantito una migliore coefficiente di penetrazione, più velocità di punta sui rettilinei. Questa monoposto aveva dalle sagomature direttamente sul muso per fare girare intorno alle ruote anteriori i flussi, quindi ridurre tutte le interferenze, le turbulenze che poi si scaricano sul retrotreno della monoposto. Questa è la teoria in assenza di una galleria del vento, perché poi tutto ciò non avvenne. Questo progetto si scontrava con la dura realtà della pista, all'avantreno una grande efficienza aerodinamica, al retrotreno le grandi ruote posteriori generavano una vera e propria ostruzione per quanto riguarda l'aria e quindi la vettura veniva comunque frenata. La sezione frontale della monoposto era comunque immutata e quindi questa monoposto, questa vettura, la P34, non era più veloce sui rettilinei. Si dimostrò comunque efficiente, in grado di vincere addirittura un gran premio con Jody Schechter ad Andersop. Il primo anno, nel 1976, una vettura in continua evoluzione, una monoposto che a partire proprio dall'inverno del 75, lavorò molto sulla presa dinamica per cercare, in funzione dei regolamenti, di garantire una maggiore portata d'aria sul propulsore. I regolamenti fino alla prima parte del 76 permettevano prese dinamiche particolarmente ampie, ma poi vennero modificati. Eliminata la presa dinamica, la TIRL si adeguò con una soluzione a doppio ingresso, molto più efficiente dal punto di vista della resistenza all'avanzamento, meno per quanto riguarda la portata d'aria direttamente sui coni di aspirazione. Una soluzione particolarmente interessante, ma che non soddisfava, che in TIRL, Dere Garn, venne nuovamente modificata, e quindi una soluzione molto più compatta, era forse anche più efficiente, fu quella che venne vista, utilizzata per diversi gran premi. Una sezione frontale rettangolare per una grande portata d'aria, subito dietro al casco del pilota. Un progetto che coinvolse comunque tantissime aziende, la Koenig per la realizzazione di ammortizzatori molto piccoli, la Goodyear per i ruotini a 10 pollici, con carcasse e mescole diverse. E quindi le sospensioni, l'avantreno era il punto focale strategico del modello P34J, una soluzione che prevedeva una barra di torsione centrale per controllare la rigidità dell'intero sistema sospensivo a quattro ruote. E poi, all'altezza delle sospensioni, avevamo i piccoli ammortizzatori della Koenig, molto leggeri, poco più di un chilo, che garantivano un'ottimale cinematica dell'intero sistema sospensivo. Tutto alleggerito, tutto miniaturizzato, compreso il portamozzo, che di fatto alloggiava le pinze che erano ricavate per la parte esterna dalla mini-minora. Delle molle elicoidali con un fermo, una ghiera, per gestirne al meglio e in maniera estremamente precisa tutto il sistema di precarico, si rivelarono estremamente efficienti, funzionali, per far lavorare al meglio questa monoposto. Venne realizzato poi un modello successivamente per la stagione del 77, che però non ebbe successo, non riuscì a vincere, e dal 78 in poi la Tyrell abbandonò la soluzione a tre assi per ritornare a vetture tradizionali a quattro ruote.